C'era una volta, in un luogo sconosciuto al mondo, un elfo di nome Kurfin. Aveva i capelli lunghi fino a metà schiena, le braccia sottili e il corpo mago. Un carattere forte e gentile, quasi come quello degli eroi. Kurfin era stimato da tutto il suo popolo, poiché aveva sconfitto elfi di villaggi nemici e faceva di tutto per gli altri. Era un elfo davvero in gamba, gli voleva bene chiunque ed era considerato l'avventuriero del villaggio. In quel periodo invernale, il villaggio Storg, in cui abitano Kurfin e i suoi amici, era in pericolo. Tutti erano tristi, in difficoltà e non si rivolgevano parola. Nermino a Kurfin parlavano e per questo lui ne risentiva molto. Con vari sforzi, Kurfin riuscì a riportare tutti felici, ma partiamo dal principio. Nel villaggio c'era sempre molta gioia e tutti si divertivano in compagnia. Tutta questa felicità nel loro mondo creò man mano una bacchetta speciale, che divenne il simbolo di Storg. Era una bacchetta di luce, che conteneva gioia e ne sprigionava altrettanta quando qualcuno ne aveva bisogno. Un giorno, però, questa bacchetta venne rubata, non si sa da chi o da cosa, ma scomparve, e da quel giorno tutti gli abitanti furono distrutti moralmente. Il magico simbolo era la cosa che più li identificava, e non avendolo, nessuno si sentiva più come una volta. I bambini in culla percepivano la tristezza di tutti, e gli adulti non riuscivano a stare meglio. Insomma, non si vedeva un sorriso. Nemmeno Curfin era solare come un tempo, ma ritrovò la sua forza, e decise di mettersi in cammino verso la montagna, la montagna che conteneva la bacchetta. Nessuno aveva mai osato metterci piede, ma Curfin prese tutto necessario per il viaggio e partì. Il viaggio iniziò di mattina, appena il sole sorse, e durante il cammino Curfin pensava chi potesse aver rubato la bacchetta, ma non gli veniva in mente nessuno, fino a quando non si ricordò di qualche anno fa, quando era stato minacciato dall'orso della montagna di rubare la bacchetta al suo villaggio. Questo perché gli elfi rubarono l'oro alla sua famiglia. Certo, esclamò Curfin tra sé e sé. Ora è tutto più chiaro. Si tratta di una questione di vendetta, e nient'altro. Mentre camminava, provava a pensare come riprendersi la bacchetta, ma non ebbe alcuna idea, fino a quando non sentì una voce che urlò. Ehi, ehi, vieni qui! Curfin si girò di scatto e vide un uometto piccino. Si avvicinò e vide le due orecchie appuntite come le sue. All'inizio non lo riconobbe, ma poi capì. Era il suo migliore amico Tron. I due si abbracciarono, e Curfin disse Oh Tron, che bello vederti, ma cosa ci fai qui? Curfin, ho saputo che saresti partito per la montagna, e poi mi sono ricordato dell'orso. Sai, ho avuto la tua stessa idea. L'orso ha rubato la bacchetta. E conoscendoti, ho immaginato che tu volessi andare da lui. Infatti avevo ragione. Avresti potuto almeno dirmelo. Scusa. Tron, hai ragione, ma non volevo ti preoccupassi troppo per il viaggio. Mi preoccupo di più se non mi dici nulla, e da oggi considerami il tuo compagno il viaggio. Va bene, riprenderemo la bacchetta insieme, e saremo gli eroi del nostro amato villaggio. I due si incamminarono a lungo, e quando arrivò la notte si addormentarono su delle rocce, lisce e piatte. Andarono tra i boschi per giorni e giorni, fino a quando arrivarono ai piedi della montagna. La guardarono dal basso, e sulla cima videro una luce potentissima. Era la bacchetta, conficcata in una roccia dall'orso. I due elfi erano stanchi dai giorni di viaggio, ma non si arresero. Si arrampicarono sulla montagna, conficcandoci dentro dei ganci che li reggevano. L'ansia era alle stelle, i loro cuori battevano in un modo spaventoso, le loro braccia non tenevano quasi più nulla, e le loro gambe erano graffiate stanche. Fortunatamente, trovarono una grotta, buia e fredda, ma con il suolo comodo per dormire, si addormentarono con facilità, e si risvegliarono solamente due giorni dopo. Curfin era spaventato per il tempo perso, mentre Tron non riusciva a riprendere energia. I due non mollarono, e finalmente arrivarono alla loro meta, la grotta dell'orso. Fecero silenzio fino a quando non videro la bacchetta, e a Tron scappò un urlo di gioia. L'orso che stava dormendo sentì il rumore, si alzò inervosito e andò da loro. Gli elfi spaventati scapparono e si rifugiarono, in un piccolo buco, dove l'orso non poteva prenderli. Dopo poco uscirono con le spade in mano e la voglia di combattere. Fatti avanti, orso, disse Curfin con coraggio, e l'orso non ci pensò due volte. Andò verso Curfin provando a mangiarlo, ma egli ancora lo schivò. Allora si diresse verso Tron, che riuscì a graffiare, ed egli si sdraiò a terra dolorante. Curfin lo vide e cacciò un urlo pieno di rabbia. Si fece ancora più coraggio, e questa volta si diresse per primo verso l'orso. Gli saltò addosso senza ripensamenti e lo accecò. L'orso era dolorante, e Curfin, ancora pieno di rabbia, non ebbe pietà. Per la seconda volta gli saltò addosso e gli infilò la spada nel cuore. L'orso morì sul colpo, e Curfin corse dal suo migliore amico. Tron, Tron, stai tranquillo, andrà tutto per il meglio. Curfin, amico mio, non sarà così, il graffio è troppo profondo. No, no Tron, tu vivrai. Non penso, ma ricordati che ti voglio bene, Curfin. E detta quest'ultima frase, Tron morì. Curfin era distrutto, e urlò. Ma c'era l'ultima cosa da fare, prendere la bacchetta. Fece così, e si tolse tutti i vestiti, che usò per coprire il suo amico. Curfin andò a prendere la bacchetta, e solamente dopo poco intraprese il viaggio di ritorno. Curfin arrivò al villaggio. C'era riuscito, finalmente. Aveva riportato la felicità nel villaggio, e tutti ora stavano bene. Ma lui si sentiva vuoto, senza ormai il suo migliore amico.